ehi giovanotto che cosa stai a fare la scusa fammi a capire stai a rubare i fichi miei le mie creature che io li ho alimentati col mio sangue con la mia passione signor stia calma signor non sto facendo niente che cosa sto facendo niente come cosa faccio scendi immediatamente sulendome alla carro deringuento visto il mio scelgo le parole scendi scenditi sto scendendo dove fare rinervosire manteniamo la manteniamo la calma per piacere che manteniamo la capire scendi sei presto 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 Ai noi hai, ai ai ai, ai 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 ai... Ai 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 ai, ai ai ai... Dimmi una cosa, a chi mi posso rivolgere a un che ti deve imparare meglio l'adducazione? Ai ai ai... Dove si trova tuo padre? Ai ai... Dove si trova tuo padre? Ma sta sull'altro almeno, sta rubando le nespole. Si aggiunge, un po' di silenzio che sto lavorando, è stamattina. Mi sono fermato un momento. Ben... Non è matto?